Edilizia, agricoltura ma anche industria. Il Veronese nel 2022 ha contato un quarto degli infortuni mortali del Veneto. Tragica scia di dolore che non può essere ridotta a numeri e grafici. Ogni infortunio ha la sua storia fatta di abitudini e fatalità, di mancata sicurezza, di controlli carenti, di formazione che spetta ai datori di lavoro che spesso manca. Sicurezza come cultura è l'idea del progetto Safety che tiene insieme ULS9, organi di polizia, associazioni di categoria, istituzioni. Obiettivo offrire formazione a distanza appoggiandosi alla rete per raggiungere anche quei lavoratori che spesso sfuggono e non per loro volontà. Ci sono moltissimi lavoratori che hanno dei contratti particolari a termine, Coco Pro, ci sono moltissimi lavoratori autonomi che quindi sono esclusi anche da tutta una parte di informazione rispetto a questo. E noi cerchiamo in questo modo, attraverso questi canali, il più possibile, di diffondere alcune nozioni che sono secondo noi fondamentali. Una finestra settimanale il sabato sarà disponibile nella piattaforma Vivox della società che da anni collabora con l'Ulss Scaligera. L'idea è di esporre diversi punti di vista della sicurezza per fare prevenzione a tutto campo, dal benessere sul luogo di lavoro a ciò che dice la legge. Abbiamo delle sentenze nuove, molto recenti e credo che fornire informazione su quello che la giurisprudenza dice sui singoli casi sia di assoluta importanza.